Un ritorno al passato guardando con fiducia al futuro è l'idea dell'allevamento avicolo biologico dell'Istituto Merendino, inaugurato questa mattina in Contrada Amola a Capodorlando. Questa è un'azienda agricola che ha uno scopo prevalentemente didattico e quindi aver inaugurato oggi questo allevamento avicolo alla presenza degli alunni e guardare indietro verso il futuro. Partiamo dalle nostre tradizioni però per evolverci, per riuscire ad attivare nei prossimi mesi, nei prossimi anni degli esperimenti e delle coltivazioni sostenibili. Questo naturalmente è un lavoro di squadra, è un lavoro in team, devo ringraziare tutti i collaboratori, tutti i docenti dell'azienda agraria, in particolare il professore Frustere, ma come vedete abbiamo qui anche i ragazzi dell'alberghiero di Brolo perché uno dei nostri obiettivi è quello di creare una filiera corta, in azienda produciamo e all'alberghiero sperimentiamo. Un progetto didattico dell'indirizzo agrario dell'Istituto Orlandino che mira anche a recuperare le razze autoctone del nostro territorio. Stamattina un'associazione locale di avicoltori ha donato all'Istituto una coppia di rossa siciliana, razza in via d'estinzione. La peculiarità è la cresta coppa, infatti viene chiamata coronata d'Italia perché è l'unica razza italiana che ha la cresta coronata. Poi è una razza molto ruspante, si abitua a qualsiasi tipo di clima, non tutti capiscono e valorizzano la razza perché giustamente allevare una livornese che produce 365 uova all'anno e allevare una siciliana che ne produce 200-180, giustamente la scelta si opta sempre per quella che ne produce di più, per una questione economica. Però se guardiamo alla salvaguardia dell'ambiente, della tutela delle razze autoctone, specialmente che è la nostra, che è la siciliana, quindi dobbiamo cercare di incentivare i ragazzi, i bambini, noi facciamo anche delle attività con i bambini dell'asilo, facciamo vedere la schiusa del pulcino, pure per capire, perché alcune persone non sanno neanche da dove si è nato prima l'uovo, la gallina, quindi è bene fare questa attività. Questo è un allevamento sperimentale, dove i ragazzi seguiranno tutto il ciclo produttivo e andranno a focalizzarsi sugli aspetti di sostenibilità ambientale ed economica, nel senso che questo gallinaio diventerà il laboratorio sperimentale dell'Istituto Agrario in modo da far uscire i ragazzi con delle qualità, delle conoscenze e delle performance migliorabili anche nel tempo. Il futuro dei nostri giovani è rappresentato sui nebbi e dalla biodiversità, quindi è importante tutelare il futuro dei nostri giovani e di noi stessi, tutelando a sua volta le razze in biodistinzione. La siciliana è una delle razze in biodistinzione, come il ciclino nero, come altre eccellenze siciliane, ed è giusto portare ai ragazzi queste novità anche sotto il punto di vista di tutela e sostenibilità ambientale.